Io sono Paola Carrus, sono una psicologa. Il nostro progetto è ospite della cooperativa We Project, che è una start-up innovativa che sta studiando le possibilità di fare consulenze psicologiche per diversi settori in remoto. L'iniziativa che abbiamo portato è stata sponsorizzata anche da Sardegna Ricerche, si chiama No Smoke ed è un percorso di consulenza psicologica per smettere di fumare. Abbiamo una versione mock-up, facciamo il primo colloquio di persona, poi le persone possono fare tutto il percorso per smettere di fumare attraverso delle videotelefonate con Skype o con FaceTime. Più in là svilupperemo anche la nostra piattaforma per gestire tutti i colloqui attraverso la piattaforma, però per il momento abbiamo già degli ottimi indicatori che ci dicono che la consulenza psicologica funziona anche in remoto. I percorsi di consulenza durano in media sei mesi, sono molto intensi nella prima fase, nelle prime quattro settimane, durante le quali di solito le persone smettono di fumare e poi più di rarati nelle settimane successive. Le nostre percentuali di successo sono molto alte perché selezioniamo le persone che sono davvero motivate a smettere di fumare con un percorso di consulenza psicologica, che però in base anche alle meta-analisi è il metodo per smettere di fumare che funziona di più. In Italia circa il 27% della popolazione fuma, purtroppo non abbiamo dati ufficiali sui minori che invece pare che la percentuale di minori fumatori stia crescendo sempre di più, però di tutti i fumatori più della metà vorrebbe smettere di fumare e non sa come fare. Sappiamo anche dalle statistiche ufficiali che i tentativi fai da te funzionano solo nel 10% dei casi. Noi siamo qui per dare una marcia in più alle persone che sono davvero motivate a smettere di fumare.